Una spiccata configurazione con asse sulla Francia domina la scena europea. Lo stretto ma forte promontorio estende la sua influenza fino al mare del nord, portando temperature decisamente superiori alla norma. Sulla nostra penisola, il nord e il centro sono protetti dall'alta pressione, il sud risente dell'influenza di uno spiccato flusso orientale più fresco che porta a instabilità. Martedì 5 settembre è sereno o poco nuvoloso, venti moderati di grecale fino a forti sui rilievi, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature minime in calo sui rilievi, in lieve aumento altrove per effetto del vento, massime in lieve diminuzione con punte di 28-30 gradi. Sul territorio provinciale tempo sereno, a Lucca e sulla Piana minima 19, massima 27 gradi, a Castelnuovo e zone montane minima 16, massima 26 gradi, a Viareggio e sul litorale minima 19, massima 27 gradi. Mercoledì 6 settembre sereno o poco nuvoloso, temperature minime pressoché stazionarie, massime in lieve aumento. Grazie a tutti!